Abbiamo avuto un pochino di difficoltà nel primo tempo, loro è una squadra molto fisica quindi è molto difficile da giocarci contro però nel secondo tempo loro si sono abbassati e noi abbiamo avuto qualche spazio in più per puntare l'uomo e per giocare meglio la palla. È normale che hai vinto il campionato e ti manca quella fame di vittoria che avevi prima, è normale però noi vogliamo continuare così fino all'ultima partita. La forma fisica io sapevo di avere dopo l'intervento degli alti e bassi, me l'avevano già detto. È stato un bel cross, devo migliorare, mi sono mangiato un gol incredibile però c'è un motivo se non faccio mai gol. E' sempre così. Come dicevo, ho fatto due o tre partite bene, è normale che c'è stato un adattamento e quindi ho avuto un calo fisico che ci sta, non giocando sempre è normale. Il bilancio è positivo, io sono soddisfatto del mio anno perché sapevo che era molto dura e le poche partite che ho giocato mi sono fatto trovare pronto.